Banditi a vita Kanye West e la sua compagna bianca censori non potranno più usare i motostafi di una società di noleggio di Venezia, dopo aver dato scandalo, alla luce del sole, sul Canal Grande La coppia si è fatta beccare in atteggiamenti osceni a bordo di un'imbarcazione, con il rapper stilista statunitense coi pantaloni abbassati e le nati che in vista, mentre la donna era china sul suo grembo Tutto questo davanti agli occhi, e agli obiettivi, di migliaia di turisti arrivati in laguna per la mostra del cinema di Venezia Le foto e il video incriminati, in particolare quello di uopsail.it, hanno rapidamente fatto il giro del web La Venezia Turismo Motoscafe, la società che ha noleggiato la barca E2, ha parlato in esclusiva con Daily Mail Australia, confermando che la coppia non è più la benvenuta a bordo delle loro imbarcazioni Un post condiviso da uopsail.it. Nella sua dichiarazione la società ha condannato l'attività a volgare della coppia, pur confermando di essere completamente all'oscuro di ciò che è accaduto sulla barca fino a quando le foto sono state rese pubbliche A bordo, l'autista doveva tenere d'occhio il traffico e non ha visto questa oscenità Se ciò fosse accaduto, sarebbe sceso immediatamente e avrebbe segnalato i trasgressori a chi di dovere, si legge nel comunicato Un saluto